tu cosa vendi vendi qualche oggetto ok per quanto riguarda acquista no non hai oggetti rari va bene non hai non hai oggetti che mi interessa ok questo è l'alloggio procedete come avevamo deciso i persecutori potrebbero non essere troppo lontani lascia fare a noi val se ci sono intrusi li scoveremo a chilometri di distanza dimmi un po non sei quel ragazzo dei casling tu no mi spiace e va bene ho capito niente paura straniero gli amici di val sono amici nostri ci vediamo anche gli addetti no è certo perché lui comunque è conosciuto come come nobile dell'impero siete qui bene chi erano quei bei tipi o solo dei vecchi compagni solo perché sono entrato nella scuola alla scuola degli ufficiali per il rotto della cuffia non ho smesso di appartenere alla città bassa in molti cui mi ammirano e che mi dici dei persecutori se mi stai chiedendo se c'è qualcuno che ci segue la risposta è sì sicuramente sì ma stavamo parlando di un'altra cosa ho fatto pressione all'ufficio dei servizi segreti per scoprire quali fazioni non vedono di buon occhio la presa di potere di aldrick purtroppo a prescindere da ciò nessuno vuole opporsi a lui neanche il generale goldwin no non c'è dubbio su quello che pensa ma senza le prove che è stato lui eliminare l'imperatore non farà niente ok quindi nel momento in cui otterremo le prove dell'imperatore goldwin si schiererà con noi e sarà praticamente un po come kiba nella storia di sciuto in due no che quando scopre che poi luca blight assassinato agares poi cambia schieramento e quindi viene dalla nostra parte quindi sarà figo anche lui aldrick ha mandato il generale goldwin ai uccirisse poco prima dell'assassinio per consolidare il suo potere il duca è stato bravo già proprio così ma non troppo ho una vista sentiamola paul all'entrare o vediamo se sono personaggi sì sono due personaggi loro tipo tipo rina ed eli eccole è tutto ok sono amici oddio ma quella è con i bracci metallici mi chiamo sein kaisling voi chi siete puoi chiamarmi ivy ya elu signore queste ragazze sarebbero la tua pista sì gli hanno una bella storia da raccontarti quindi voi due siete scappate dalla struttura di ricerca delle lenti luniche di aldrick ah edi ecco perché hanno quelle quell'armatura sì signore io e la mia gente siamo stati presi dal nostro villaggio contro nostra volontà non sapevo come fuggire né come tornare a casa e infatti lei ha i vestiti imperiali comunque lei invece ha l'armatura che con che con i colori richiama infatti ora in totale loro sono sei nel party guarda caso hanno un party da sei ma ivy mi ha salvata lavoravo alla struttura come ingegnere ma nessuno mi ha mai detto cosa accadeva realmente ah anche lei è un ingegnere e visto che non mi piace non sapere le cose ho deciso di ficca nasa in giro e scoprirlo da sola in base alla sua descrizione il villaggio della signorina ya elu dovrebbe essere parte del territorio nosfariano che era stato concesso all'impero è possibile che la tua gente fosse il motivo per cui aldrick lo voleva so solo che i galdeani stavano cercando qualcosa vicino alle rovine runiche signore ma gli ho sentito dire che hanno avuto guai con i guardiani se dovessi provare a indovinare direi che hanno trovato il nostro villaggio per pura casa e per quanto riguarda il motivo per cui ci hanno prese eh vabbè oddio questo è lo stesso potere della lente runica ma dov'è la lente? alcuni cittadini come me e mio fratello sono nati con il potere delle lenti runiche quella orribile signora mascherata che lavora per l'impero l'ha scoperto e ci ha rinchiusi ah quella con la maschera da volpe là un attimo hanno rinchiuso l'intero villaggio? sì mia madre, mio padre e anche il mio fratellino vi hanno imprigionati ma perché? ovviamente per nulla di buono quando l'ho sentito ho pensato che anche gli altri dovessero saperlo quindi ho fatto scappare gli aero della struttura ma nella mia cassa degli attrezzi avevo spazio solo per lei o suo fratello non potevo prendere entrambi lui è rimasto indietro per permettermi di fuggire siamo riusciti a seminare i persecutori del duca e adesso siamo finite qui li abbiamo incontrate non troppo lontano da qui mentre nascondevamo il carro armato runico e ci siamo quasi cacciati in un guaio con Ivy e le sue braccia runiche quando pensavo che fossimo degli idioti imperiali e mi dispiace molto ah non preoccuparti ma non voglio avere altri guai con le tue braccia lo so, lo so, ho fatto una figuraccia per favore signore la mia famiglia e gli altri cittadini hanno bisogno di aiuto potrebbe aiutarci? che ne dici? beh se le azioni del duca violano la legge imperiale potremmo riuscire a cambiare le carte in tavola rendendo questa situazione un affare pubblico in più in più l'esercito imperiale che conosco non accetterebbe mai una tale situazione si sta comportato da tiranno questo è lo spirito giusto se proprio dobbiamo commettere un tradimento sarà meglio che ne valga la pena minchia quindi il piano è infiltrarci nella struttura di ricerca del duca salvare i cittadini e smascherare questa storia? non proprio mi dispiace Yaelu ma non so se possiamo liberare subito la tua gente potrebbe volerci un po' finché non rendiamo pubbliche le azioni del duca va bene così signore grazie immagino che dovremmo portare il caro armato l'unico vicino alla struttura è nella parte est della città giusto? eh dove siamo stati prima eh? quando ho detto dove l'ho nascosto? forza Yaelu andiamo o forse questa frase è perché lo sono andato a vedere prima? ok quindi loro si sono uniti al party praticamente ora ho un party composto da sei giusto? eh sì eh però aspettate perché io credo che comunque allora lui è S quindi deve stare avanti lui deve stare davanti lei deve stare davanti lei può stare dietro lui dietro ah ok perfetto ok il party me l'hanno sistemato in modo diciamo intelligente allora tu al centro perché sei il leader e poi loro due qua va bene così bello sto party tutto blu a tema tutto colorato blu mi piace mi piace oddio questo chi è? Robert Belgrave personaggio importante va bene andiamo al al cannone runico che succede? sono molto preoccupato per la mia famiglia beh il mio caro armato runico ci farà arrivare alla struttura così velocemente che non avrei tempo di finire la frase poll è un genio minchia e le mie braccia runiche spediranno i cattivi dall'altro mondo con un solo colpo grazie mi fa sentire un po' meglio bene bene muoviamoci oddio sembra frankie di one piece praticamente quello però aspetta voglio vedere un attimo come sono combinati allora fatemi vedere un attimo allora valentine va bene me lo ricordo combo giovane imperiale implice danni pesanti dall'acerazione a tutti i nemici costo 3 sp ah minchia hanno l'attacco combinato tutti e 3 figata poi combo amichevole che è quella con me con nova poi combo degli eroi infliggi danni enormi da fendente a un nemico ah però ci vuole anche teresa quindi vabbè teresa vabbè immaginavo che teresa l'avremmo reclutata prima o poi combo giovane imperiale che sono quelle di tutti e 3 poi vabbè runa potenziata runa dell'oscurità poi danni moderati da da martellamento a una colonna di nemici costo 1 sp combo dei maghi tech che altro maghi tech che richiama tantissimo anche questo fantasy 6 runa del fragore distruttivo runa della potenza runa della difesa poi vabbè lei la conosciamo combo dello stratega invece danni moderati da proiettili a tutti con cosa addirittura con marriage figata figata poi vabbè lui fa le combo quelle lì che rune hai tu runa dello smantellamento runa della terra smantellamento la runa esclusiva di pola mentre danni inflitte ai golem nemici del 50% tu invece runa della nebbia accecante nube di nebbia elevata probabilità di accecare tutti i nemici figata velocità e abilità nessun combo eroe utilizzabile vabbè per ora sicuramente ci sarà una combo che potranno utilizzare credo che sicuramente ci sarà un futuro un personaggio con cui potrà fare le combo forse suo fratello suo fratello sarà reclutabile cioè sarà un personaggio reclutabile è possibile anche perché essendo lei reclutabile probabilmente anche suo fratello lo sarà allora abbiamo raggiunto ecco qua quindi ci spostiamo con il col calcolo carramato bene mi sa che siamo a cavallo ecco è incredibile sono molto lontano dal progettare tecnologia l'unica di questo tipo non lo so le braccia traccia nei movimenti del tuo corpo giusto? secondo me quel tipo di microtecnologia è davvero incredibile ah che dolce è il momento di andare qui è tutto pronto al castello guardhaven se è lì che stiamo andando ne vedremo delle belle mi dispiace non sapevo che sarebbe stato pericoloso ma sappiamo che è necessario e nulla ci fermerà a costo di infiltrarci nella fortezza di Aldrich bene andiamoci da fare quindi stiamo andando proprio nelle fauci del nemico letteralmente eh mica le trame di stigioni sono incredibili non posso avvicinarmi più di così senza che nessuno mi veda e ricordate non siamo qui per assaltare il castello dobbiamo solo infiltrarci nella struttura di ricerca delle enti runiche in cui tengono i cittadini non dovremmo trovare nessuno fino alla mia officina ma dopo sarà pieno di guardie forse è meglio se resti qui e lasci fare a noi a Elu per favore signora voglio venire anch'io se ci sono anch'io gli abitanti si fideranno più facilmente e poi potrei esservi d'aiuto prima di tutto bisogna scoprire cosa stanno scogitando in quella struttura immagino che non sarà nulla di buono sottotenente oh giusto mi dispiace certo giustamente io lo dice davanti a quella mischina resta qui assicurati che il caro armato runico sia pronto a partire in qualsiasi momento si signore bene muoviamoci quindi qua abbiamo una sorta di dungeon oddio però possiamo andare anche qua dietro cosa c'è qua dietro c'è un soldato che fa il ceppo ci sono forzieri ci sono cose qua dietro mi sembra strano questa strada vuota così no avranno potenziato la sicurezza dopo i Elu dobbiamo fare attenzione qui non ci sono nemici casuali ma credo che nella sezione dopo ci saranno a sto punto qui non c'è nulla vero mi sembra strano sta mappa così un po' come nel dire oh non se ne accorge facciamo finta di niente invece ah un salvataggio ok quindi salviamo qui nell'altro slot eh si oh è proprio ah laboratorio lenti runiche ok è proprio un laboratorio costruito in un bene luoghi pieni di nemici non fanno per me madonna è pieno di roba qua da fare minchia questo mi sembra la nave anzi no mi sembra un po' effettivamente la nave sì un pochettino assomiglia alla nave quella di final fantasy 12 aspetta qui non ci possiamo entrare ah sì ci possiamo entrare qui è chiuso ah forziere bene sharp anti confusione quindi allora sharp anti confusione in realtà la possiamo dare a Hildi perché Hildi è la curatrice per cui se si confonde lei siamo fottuti ah qui c'è un forziere chiave rossa ah con le chiavi rosse io possibilmente posso aprire le porte vero è un sistema è uno di quei dungeon dove devo trovare le chiavi aprire fare dire vero ok va bene credo di aver capito la struttura e nel mezzo ci saranno ovviamente incontri casuali qua o forse no oddio cos'è questo anzi no qua forse non ci sono gli incontri ma ce ne saranno dopo forse ah se non ci sono è necessario che debba farli livellare ora qua perché sicuramente ci sarà il boss che dovrò affrontare queste le possiamo togliere che tanto sono stupide non è una chiave adatta alla serratura ah oddio quindi ok non posso aprire questa porta andiamo avanti beh sicuramente sarà quella là sopra allora perché solo ste due porte ci sono che posso aprire quindi se non è pane è pane esatto e ora qui prendiamo la chiave esatto chiave blu che sarà sinceramente pensavo di prendere molta più exp dentro sto dungeon pensavo di prendere molta più exp male 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 è male male ok quindi possiamo passare di qua e andare di qua però va bene alla fine ne ho tante quindi le ho vinte tutte a carte quindi va bene le possiamo spendere possiamo sfruttare allora qui abbiamo un'altra zona forziere uh armatura patchwork che serve e le dà anche difesa di ok mi sta bene qua invece cos'è sto ah ok le ricette mi hanno dato le ricette una delle resistenze a brusco mentre la resistenza a distruzione ah ok questa era la runa che ho preso da sign vabbè pensavo fosse pensavo fosse dell'altro allora dovrei andare a sinistra e invece io vado a destra il cancello centrale sarà quello che dovremmo aprire alla fine molto probabilmente ricetta della tom yum che cazzo è tom yum vabbè ecco noi dovremmo andare là dritto quindi prima dobbiamo risolvere tutta la sezione oddio che cos'è quella roba strano pensavo che ci sarebbero state più guardie dove sono i soldati di basso rango non possono stare qui proprio come noi ingegneri anche se ho sempre pensato che il posto sarebbe stato pieno di quelli di alto rango capito maestro sign da quella parte oh no ah minchia pensavo fosse una boss fight invece potrebbe anche essere peggio madonna mia aia aia due guarda quella con i cazzotti bello ok no 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 allora alla fila davanti non non prendiamo troppi danni quindi non è male aia brutto questo oddio no ho usato vabbè si ci sta dai ha usato la pozione dai 500 vabbè però vabbè erano tutti molto infortunati quindi lo accetto dovrei sistemare i gambit effettivamente perché dovrei sistemare i gambit però ripeto la cosa abbastanza positiva di sto gioco è che l'intelligenza artificiale dell'auto è comunque abbastanza bilanciata quindi oh buono aumento di livello per cui non mi lamento più di tanto anche se mi butta via qualche oggetto una volta ogni tanto lo posso sopportare che cavolo che cavolo erano quelli tenente lo so sembravano i nemici che abbiamo affrontato nelle rovine runiche ma come fanno a essere qui eh ma in tutto ciò non hanno non stanno parlando di quello che hanno qui davanti questa specie di boss che dovrò affrontare perché questo lo dovrò affrontare sicuro sono abbastanza convinto che lo affronteremo come boss fight e lì secondo me saranno cazzi cazzi giganteschi incredibili perché chiave blu perché cioè dovrei tecnicamente uscire andare alla locanda curarmi ritornare qui e poi affrontare la boss fight perché se perdo se perdo tutti gli mp perdo tutto come cazzo dovrei combattere cioè sono il boss col cazzo che lo buttiamo giù ok speriamo anche oddio speriamo anche di trovare comunque di trovare anche qualche equipaggiamento allora non sarà sicuramente questa la porta blu sono sicuro è infatti che devo scendere sotto e prendere l'altra chiave 100 su 100 è un problema è un problema qui è vero che ho tante cure però è un problema sono troppi fanno troppi danni e sono troppi chiave rossa cioè devo avere il modo di poterli non dico e va bene ok così ci sbrighiamo un po' prima anche perché ora sarà un problema poi vabbè appena sbloccherò tutto tornerò alla locanda e poi mi riposo la locanda che non vorrei sprecare troppi oggetti albero motore aspetta ma sta albero motore però dove dobbiamo inserirlo forse lì sopra lei quella ha finito gli mp pure quindi top vabbè si dobbiamo e infatti dobbiamo andare là sopra a meno che ora utilizzando l'albero motore riusciamo ad aprire praticamente tutto il corrispondimento cioè se devo se devo livellappare lo faremo dopo non è un problema allora intanto salviamo per ora qua ah ecco lo devo inserire qua dentro però vedi non c'è modo di poter minchia è un problemone questo vediamo se ora c'è la boss fight io sono fottuto che ora c'è quella là che sfonda il muro vuol vedere che c'è ora quel mostro di prima che sfonda il muro lo devo combattere penso che ci sia qualcosa più avanti mi sto agitando continuo a sentire voci nella mia testa qualunque sia la nostra prossima mossa dobbiamo agire in fretta concordo ma prima concordo con Severus eccoci qua questi sono gli abitanti? sì sua grazia i guardiani hanno rallentato i nostri progressi nelle rovine nosfariane ma trovare quel posto è stato una mano dal cielo una lente runica in un villaggio per nasconderlo e proteggerlo molto interessante Milu no ah ecco vedi è personaggio anche lui cosa volete farci? che cosa avete fatto a mio padre e a mia madre? bene bene che coraggio sì comunque lui è palesemente Luca Blight lui lo affronteremo lo affronteremo sicuramente in un in una sfida come abbiamo sfidato Luca Blight sarà bellissima le lenti runiche sono instabili e inaffidabili e i loro benefici sono riservati a pochi fortunati alcuni di loro proprio come te possedono il loro potere fin dalla nascita sarei d'accordo con me che non è giusto vai al punto per permettere a tutta l'umanità di usare il loro potere bisognerà prima comprenderne la natura la storia ci costringe a seguire questa strada la strada più giusta non sei d'accordo? non capisco cosa abbia a che fare con noi non capisci? questa è una lente grezza la fonte da cui tutte le lenti runiche prendono il loro potere se scopriamo i suoi segreti possiamo lanciare l'umanità verso un nuovo incredibile futuro mi servirà il tuo aiuto per farlo ragazzo mi aiuterai non è vero? aiutarti è per questo che stanno facendo è questo che stanno facendo i miei genitori e gli altri abitanti che hai rapito? la lente grezza non condivide facilmente i suoi segreti è necessario un sacrificio un sacrificio? un attimo li hai uccisi li hai uccisi oh oh cazzo il mio braccio oddio brutte notizie per i deboli lo so ma il futuro richiede un sacrificio di sangue e l'umanità deve compiere il suo destino oddio guarda che bella spada che ha dove siamo? cosa sta succedendo? laggiù laggiù milu oddio non mi direi che devo sfidare lui dunque se devo sfidare lui sono fottuto cos'hai fatto? ecco quell'insolente di Kessling piagnugola quanto ti pare ragazzo ma non mi pento delle mie azioni non osare compiacerti minchia come hai potuto fare del male a tutte quelle persone innocenti un sacrificio necessario dovrebbe essere chiaro taci ah minchia l'attacco abbiamo il duello praticamente ho dato il mio favore a casa Kessling e mi ripaghi con questa follia? io non capisco però lui cosa cioè non ho capito effettivamente come funziona il duello perché io non capisco ora che lui mi stia facendo vedere praticamente non lo so boh quel che stai facendo è sbagliato quel che faccio è per il bene superiore qualcosa che la mente ridotta non potrebbe mai comprendere vedi perché io così posso posso accumulare tensione ma io devo anche sfondarlo da un lato ecco vedi qua hanno difeso tutti e due e ora che impari a stare al tuo posto ok quindi lui ora mi attacca esatto quindi controattacco ok le frasi ci sta che si possano interpretare preferisci avere le mani pulite piuttosto che assicurare un futuro al tuo popolo certo che sì ecco ora qui possiamo attaccare e ora che impari a stare al tuo posto ok e qui controattacco bene superiore sei troppo pieno di te parli ai ragazzi senza ambizioni e qua possiamo attaccare eh mi sa che però lui mi ha contrattaccato e ora che impari a stare al tuo posto eh mi sta sfondando preferisce avere le mani ok eh però io sono in ginocchio eh però vedi non ci sono arrivato eh ma io ancora sono morto praticamente eh infatti eh mi sa che lo devo sfondare non credo che questo sia probabilmente l'avrei potuto sfondare se me la fossi giocata meglio l'avrei potuto sfondare aiutiamo a capire una cosa piccolo Kessling come fa uno a nascere nobile e con un incredibile talento e poi tradire la propria patria sicuramente non l'avrei potuto battere però l'avrei potuto sfondare non è tradimento pare la cosa giusta oh bene sentiamo dare la vita per Galdea per una giusta causa ma questa guerra nasce da una bugia hanno inventato menzogne su altre nazioni per dichiarare una guerra inutile hai ucciso su eccellenza l'imperatore per impedirgli di fermarti e adesso stai uccidendo degli innocenti per estrarre il potere delle lenti non c'è giustificazione per le trazioni nessuna patetico è davvero la giustificazione migliore che hai trovato nel corso della storia nessuno si ricorderà e a nessuno importerà che tu ti sia fatto degli scrupoli è una cosa insignificante è così che pensano gli uomini piccoli non hanno una visione per il proprio paese comunque io farò quello che è giusto non riuscirai a farmene vergognare o a impedirmelo e allora è arrivato il momento che tu sparisca dalle pagine della storia come tutti gli uomini di mentalità ristretta maestro Sain Oddio che sta facendo quello ha la potenza oh no ora arriva ecco minchia ah no il cannone è l'unico questo qua eh ho sentito il rumore minchia giusto intendo sono fuggiti li seguo si prendi i prototipi mostriamo al ragazzo il risultato del suo contributo agli ordini minchia quindi c'è lei che ora mi romperà le palle si riprenderà ho fermato le emorragie e medicato la ferita il meglio possibile ce la farà andrà tutto bene sorellina va tutto bene aiuterò il ragazzo cosa facciamo adesso tenente il duca manderà sicuramente qualcuno a seguirci abitanti ascoltatemi manderò dei soldati a proteggervi seguiteli e fuggite nella foresta poi rimanete nascosti lì e se non riusciamo a scappare ci riuscirete perché noi attireremo l'attenzione dei persecutori come con silve eh voglio dire con un lampo di gloria del mio inanimato carro armato runico esattamente e mentre esemiliamo il caos voi fuggirete nell'altra direzione correndo il più velocemente possibile va bene ci proveremo partiremo presto siate pronti si signore ok quindi ora qua mi devo setappare dopodichè eh c'è solo un problemino ah no siamo con tutti gli mp massimi hp massimi ah ok allora possiamo salvare però salvo qui perché lo voglio riprovare sto duello poi dopo per conto mio voglio vedere se effettivamente si può sfondare magari cambia qualcosa ma non credo credo che comunque sarà la solita roba però ci riprovo quando vuoi sign iniziamo sì signore presto la pressione sarà a livelli massimi abbiamo deciso di aiutarvi gliela farò vedere io a quel pallone gonfiato sì vogliamo venire con voi sarà pericoloso non mi importa il duca deve pagare per quello che ha fatto la tecnologia deve portare gioia alla gente quello che sta facendo è semplicemente sbagliato non ho potuto aiutare in tempo mio padre e mia madre e tanti altri ma posso ancora proteggere Milu e gli altri abitanti per favore va bene potete venire oh reclutati ah vedi reclutati ragazza timida Yaelu carruccia lei però comunque come come artwork molto carruccia porta grosse braccia Ivy madonna stiamo partendo assicuratevi che gli abitanti siano al sicuro sì signora da questa parte sbrigatevi eh ma lui fai attenzione Yaelu forse lo posso recuperare dopo so che mi permetto che nessuno riferirti dobbiamo andare prenditi cura di lui ok sicuramente potrò avere il loro villaggio e potrò reclutarlo successivamente con Nova ok andiamo iniziata l'operazione smammiamo seguita dall'operazione caos folle smammiamo e caos folle strada bloccata e quindi ora devo scontrarmi contro la tizia con la maschera vero minchia sarà un palo nel culo di nuovo qualche segno non ancora signore non mi piace questa storia sembra troppo facile forse dobbiamo farci sentire di più potrei sparare di nuovo contro il castello potremmo provarci ah mi sa che c'è ora di nuovo c'è ora c'è quel coso di prima quella specie di grifone a tre teste di prima penso che stia arrivando qualcosa e mi stanno seguendo con quello possibilmente dov'è dove eccolo ci ha appena passati proprio davanti a noi ecco questa è la è la è la è praticamente una similitudine a quando scappiamo in Final Fantasy 7 sull'autostrada ci hanno già trovati oddio che è sta roba e noi combattiamo sul cannone runico esemplare modificato v 1155 minchia allora lui facciamo illusione esperta attacco attacco tu no minchia sono senza mp lo sapevo che non avevo gli mp merda sta cosa è brutta molto brutta molto molto brutta molto brutta devo ok lui ha l'illusione quindi almeno spero che non abbia troppi hp sto boss perché sennò siamo fottuti siamo veramente fottuti distruzione potente eh però 50% di sbagliare vabbè troviamola lo stesso anche lei facciamo schivata così almeno e tu nebbia ciecante ecco se riuscissi a mettere blind potrebbe essere interessante però non credo ti debbaffarlo minchia si però quello che c'è missa praticamente qualsiasi cosa quello siamo messi molto male combo eroi non la possiamo fare perché tanto ma anche volendo farla è completamente useless tu fai questo tu fai questo tu fai questo l'intirunica tu cos'hai niente non puoi fare un cazzo eh non eh minchia non ho la medicina per tutti quanti un problemone questo eh la do a lei la medicina è in prima fila ecco qua stordito apposta e perde il turno ora lo ammazza pure no ancora sopravvive bello il critico però vedi è ferito quindi allora combo eroi possiamo fare la combo ma non so se ne varrà la pena proviamo anche perché è nemico singolo quindi bah non so fino a che punto tu invece oggetto erba di prima qualità assign attacchi prima di tutti fortunatamente ecco stordito eh vaffanculo dai però che puttanata proprio questa è una puttanata allucinante vedi deve essere lui a fare vabbè sì cioè ogni colpo è stordimento è una è una cazzata questa vediamo quanti danni gli fanno 212 ok HP gialli però quindi non ha non ha troppi HP tu hai 4 HP e chi l'aveva visto vediamo se ti shotta godo ok ok quello è morto ottimo bene ottimo cioè mi continuo a permastunnare come cazzo lo dovrei attaccare se mi permastunna cioè ma dico io ma si può ecco ecco quella la shotta olè ciao morta anche lei che brutta boss fight questa mamma mia senza neanche la possibilità di recuperare MP è una puttanata allucinante è veramente una puttanata allucinante con Fentende Rapido attacchiamo prima quindi vediamo se riusciamo a fare qualcosa e tu fai schivata ok Fentende Rapido non è male come danno bello eh devo giocare così di evasion sperando che non vengo stunnato e via tanto HP rossi quindi non dovrebbe mancare molto ok morto il problema ora è che ce ne sarà un altro sicuro ci sarà anche quella specie di grifone che abbiamo visto perché sicuramente ci sarà ecco incenso di recupero è buono che mi permette di curare tutti e lo posso sfruttare dopo cos'era quella cosa il duca qualche mostro tirapiede o qualcosa del genere non essere stupido comunque quella cosa stava cercando di impedirci di fuggire sì e la cosa più strana è che percepivo un potere runico lo stesso delle lenti abbiamo già visto mostri con dei materiali fatti di lente grezza cristallizzata nelle loro corpi sto parlando di qualcosa di più concentrato e puro eccolo rimandiamo alle chiacchiere abbiamo compagnia ecco vedi qua siamo preparatevi per la battaglia oh vedi eccolo qua questo è quello che abbiamo no era questo quello che abbiamo visto là dentro esemplare b19-29 e attacca prima di tutti tra l'altro allora elusione poi tu lenti runiche pioggia di spade tu hai un hp quindi morirai subito praticamente 150 hp a tutti gli alleati eeeh proviamoci proviamoci tu schivata tu attacco e tu schivata oddio non ho capito che è successo perché non ha attaccato lui vabbè meglio così lenti runiche fendente rapido tu attacco tu distruzione potente tu no tu attacca tu attacca pure e tu attacca pure vabbè come fa a missare un drago enorme gigantesco ok lui che attacca una sola volta non è troppo brutto diciamo come situazione tra l'altro attacca anche dopo quindi già qui è diversa la situazione non è come quello che attaccava due volte di fila e per giunta attaccava prima rendendo il tutto più difficile anzi no tu fai una cosa tu cura e tu invece nebbia accecante se riuscissi ad accecarli sarebbe utile però credo che loro non si accecino siano tipo immuni 16 ale minchia difesa down tutti quanti bene benissimo e attacca prima pure di tutti attacca riuscirò a curarla lo scopriremo solo vivendo ah ma lui quando si mette davanti è perché o fa difesa o perché si buffa tipo ecco perché 56 però va bene hp hp gialli quindi cioè io se attacco se attacco singolarmente mi conviene di più di accecare non posso accecarlo perché pare che sia immune non si acceca cioè ho un personaggio che può accecare e non funziona cioè ma ma perché queste cose combo eroi non la possiamo fare attacchiamo 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 e tu cura valentine che sta crepando mischina ora mi farà di nuovo il ruggito quello lì perché quando attacca alla fine ok è morto fortuna che non hanno tanti hp cioè le hanno messi apposta con pochi hp perché le hanno messi apposta però sono fastidiosi perché non mi hanno fatto praticamente recuperare gli mp prima perché se avessi recuperato gli mp mi sarei potuto difendere meglio cioè non hai modo di recuperare gli mp sta cosa un pochettino questo è anche l'ultimo è anche l'ultimo avevo una lenti l'unica e anche gli anelli di controllo ciao ragazzi buonasera un mostro con le lenti spero davvero che il duca non stia creando quelle cose nella sua struttura laggiù no minchia bene beh c'è da aspettarselo con i prototipi tu no minchia anche lei come boss questi mostri erano prototipi spiegati meglio oh cosa devo fare con te oh no non di nuovo ah vabbè ciao cannone si è buonanotte allora illusione ma perché non posso usare il cannone qua ci voleva la meccanica e ci voleva la meccanica che tu potessi usare potessi usare il cannone qua ci stava tutta la meccanica del utilizzare il cannone durante la battaglia magari un turno lo caricavi e un turno ti permetteva di attaccare secondo me era perfetta come cosa era veramente perfetta come cosa impressioni ragazzi è stupendo il gioco c'è poco da dire c'è c'è veramente pochissimo da dire ti piace la serie di shui koden ti piacciono i giochi di ruolo classici ti piacciono i personaggi fighi bene giocatelo e tra l'altro vi ripeto è gratis su game pass perché è il game pass allora se attacchi così singolarmente va bene ti posso gestire abbastanza easy però devi attaccare singolarmente non devi fare il figo cioè se attacchi poi per i cazzi tuoi ecco quella missa sempre missa sempre il secondo pugno come cazzo è possibile no madonna mia ovvio bella la host però minchia l'ha confuso cazzo cazzo vedi io ho messo l'amuleto della confusione a cosa vediamo se c'è la meccanica che colpisce praticamente il compagno spero di noi in realtà tanto nebbia accecante è completamente inutile perché non posso accecare il boss o comunque non posso accecare i nemici oddio l'ha accecato oddio forse l'ha accecato e sì perché è nero sì sì l'ha accecato oh finalmente è entrato per la prima volta è entrato il blind incredibile non ci credo miracolo ok ha accecato mi sento più tranquillo oh oh ecco e lui giustamente fa l'attacco magico dio buono ok tu non sei più confuso illusione tu fai la pioggia di di pandistelle tu distruzione potente tu curi eh valentine tu non puoi fare un cazzo no a te non ti curo se crepi sti cazzi quella ha messo sempre il secondo pugno niente è il secondo pugno invalido c'è ora fa solo attacchi magici vabbè dai che tecnicamente è morto dovremmo riuscire a gestirlo ok certo senza mp è tosta è veramente tosta veramente veramente tosta tra l'altro non posso entrare neanche nel menu che dici sai magari li curi o comunque li puoi magari puoi ripristinare niente zero quello era anche uno dei prototipi più completi in che senso state controllando i mostri attraverso le lenti perché mai fareste una cosa del genere perché sono delle armi utili non ci credo e quindi sono questi i progressi del duca mostri o no sono esseri viventi ed è sbagliato usarli per eseguire esperimenti ah quindi loro allora cosa succede praticamente le persone che vengono sacrificate vengono trasformate nelle mostri quella non è tecnologia no mi rifiuto di chiamarla così chiamala come ti pare non importa dopo aver aumentato il livello di risveglio della lente grezza anche il prossimo prototipo sarà completo e vi farà fuori oh e devo ringraziare quegli eremiti della tua gente ragazza e infatti i miei genitori no se può farti sentire meglio il loro è stato un nobile sacrificio per l'avanzamento dell'umanità ho sentito abbastanza ma sparaglio col cannone come vuoi chiamare questa cosa una causa nobile come puoi pensare che tu stia migliorando qualcosa voi non conoscete la giustizia sono d'accordo sono nemici del mondo e bisogna fermarli per il bene dell'impero carina tra l'altro la svolta oh oh ecco questo è quello che avevamo visto all'inter eh calla questo è quello che avevamo visto ah espediente usa cannone oddio l'hanno messa veramente la meccanica non pensavo non pensavo allora elusione tu attacco tu ti curi da sola tu fai schivata tu invece usa cannone e tu invece schivata minchia però lo attacca due volte madonna mia aia non mi piace questa cosa oh stordito però ah minchia il cannone lo devo usare quando fa il potenziamento mi sa eh devo stare attento a come gestisco la meccanica del del boss qua che secondo me se mi fa l'attacco quello è mi sciotta praticamente allora qua possiamo curare lei e ha detto che c'è cooldown di due di due turni per il cannone ho letto accechiamo vediamo se ce la facciamo ovviamente no figurati se lo accechiamo che ha toto mille ecco pollo è morto e mo oh merda e non lo posso usare il cannone ora minchia mi sto cagando letteralmente addosso medicina super risveglio allora per Paul per il momento non lo risvegliamo perché non non so bello sì vabbè vabbè ciao buonanotte buonanotte allora qui risvegliamo lui allora il cannone non lo usiamo qua adesso con lei utilizziamo l'incenzo di recupero e con lei proviamo la nebbia ovviamente non lo acceca ecco qua ecco qua ah no aspetta però io ora se uso l'espediente attacco per ultimo giusto ah no non uso non d'attacco per ultimo ok allora va bene tu fai l'illusione perfetta tu attacchi e il cannone glielo facciamo usare a cosa a hildi usa cannone tu attacca eeeh oddio potrei curarlo valentine lo curiamo dopo tanto lo stunniamo ora col cannone esatto oh oh l'istruzione potente non mi piace sta cosa allora tu ti curi tu vai di l'enterunica tu vai di l'istruzione potente tu attacca tu attacca e tu ce l'ha parato ad accecarlo cioè veramente è incredibile il non ratio di accecamento l'ho già provato stellar blade con la demo il gioco ovviamente non ce l'ho perché non ce l'ho ma oddio mi ha paralizzato non me lo dire ovviamente è mancato eh ma il cannone non lo posso usare ancora minchia è un casino qua qua dobbiamo curare lui l'ho provata l'ho provata la demo non mi è dispiaciuta schivata schivata eh qui ho un problema sì però cioè non è giusto che lui si potenzi e praticamente io il cannone non lo posso usare cioè che puttana testa roba come è gestito quello è paralizzato e qua devo curarmi devo curare tutti ok e dopo devo usare il cannone niente quella non niente eh vabbè quella è morta sì va bene buona notte sì vabbè quanto è il contrattacco del guardiano ma che che è sta roba stiamo scherzando c'è pure i counter no vabbè sì no 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 c'è il contrattacco c'è il contrattacco del guardiano ma che boh c'è mi fa scounter pure usiamo il cannone eh vedi HP gialli eh però illusione esperta quello è paralizzato eh bello bella bella cagata no mi sa che non devo attaccare io devo stare in difesa tutto il tempo eh vabbè morto di nuovo quella ora è paralizzata gestita malissimo secondo me questa parte cioè non posso recuperare neanche gli MP per me è finita guarda perché ora lei è paralizzata e niente niente completamente paralizzata che poi la paralisi quanto minchia dura non posso fare nient'altro confermi sì guarda confe ala dell'uragano arrivederci grazie niente devo giocare praticamente in perenne difesa e quando si potenzia quando si potenzia lo stunno ecco tipo ora si potenzia vedi dopo l'uso di utilizzabile per due turni però lui si potenzia ogni due turni quindi cioè io un colpo lo subisco per forza ok HP rossi quindi in teoria non dovrebbe mancare molto devo resistere devo resistere un altro pochettino dai il D l'avanguardia il D ecco potenziamento posso usare il cannone giusto uh bene mi sa che abbiamo vinto allora sì madonna solo Hildy che è riuscita a tenere testa al boss ora prende 600 milioni di esperienza lei e boom è salita al 42 di bot comunque non mi è piaciuta tanto questa parte perché non si possono recuperare cioè non si può recuperare tutta l'energia impossibile come si sconfigge quella cosa perché la giustizia è della nostra parte oddio se mi hanno messo un'altra se mi hanno messo anche la boss fight con lei sono fottuto no ho un altro asso nella manica ed è roba grossa ecco bravo Paul perché non la uscivi prima sta roba perché non la uscivi prima questa questa questo asso nella manica potrei riuscirlo due tre combattimenti fa questa cosa così magari avremmo finito prima minchia meno male l'abbiamo superata cosa sta facendo il maestro Saini niente sta dormendo possibilmente ciò che è necessario comunque sì questi primi mesi sono stati particolari tra l'altro ora a maggio esce esce cosa è una sacrifice la storia di Hellblade praticamente Hellblade 2 che graficamente sembra essere un qualcosa di di allucinante anche se a quanto pare girerà a 30 fps però ed è questo che abbiamo visto e sentito al castello Garda Haven ah vedi Craig ma chi è suo padre è suo padre che è un personaggio tra l'altro e cosa dovrei fare con queste informazioni so che prenderei la decisione giusta padre sì è suo padre non puoi saperlo anche se potessi parlarne con il generale Goldwyn non risolverei nulla servirebbe solo a provocare il duca lo so in quanto leader della casa Kessling devo proteggere la nostra famiglia prima di tutto le tue azioni verranno viste come tradimento contro l'impero e io non posso appoggiarle adesso vai via prima che tua madre si accorga che sei a casa capisco e prometto che non tornerò mai più grazie per tutti i sacrifici che hai fatto per me padre minchia perché sei si chiama seigni non saini io pensavo se lo pronunciassero saini comunque il personaggio di seigni incredibile cioè gli hanno fatto una lore bellissima dietro a differenza di shuiko den 2 dove praticamente avevi joey che era prima con te e poi li tradiva qui al contrario lo incontri come nemico tra virgolette come avversario però lui per la cosa per fare la cosa giusta tradisce la sua città la sua patria per stare con te quindi è proprio letteralmente al contrario mio fratello mi ha detto più volte che Arthur si diceva sempre la gloria più grande proviene dalle azioni giuste capisco addio padre in quanto leader della casa casling ti ho detto che non avrei appoggiato le tue azioni ma in quanto padre sono molto fiero di entrambi i miei figli eh non ci sono parole migliori secondo me combatti per i tuoi principi figlio mio si signore giustamente e quindi ora loro ritornano tutti al castello immagino perché ho finito il capitolo di segne grazie a tutti Grazie per la visione!